le misse, magari perché poi c'è un sacco di lavoro, un sacco di problemi, ma a spiegarci quel mistero del linguaggio di oggi. Voi avete visto che se in un terremoto qualcuno ci lascia la vita, non muore, ma è una vittima. Molto più generico. Voi sapete che il cieco non è un cieco, non vedente. Voi sapete che la guerra all'Iraq è l'esportazione della democrazia. Ora, tutto questo però non è semplicemente una presa in giro, è anche il viacolo di un'ideologia. Per esempio, negli anni Sessanta, un giornale come Il Tempo si arrabbiava moltissimo con tutte le organizzazioni che si definivano democratiche, perché lo sapevo perfettamente che c'erano i comunisti. Oggi tutti sono democratici, addirittura D'Alema dice che siamo tutti liberali democratici e nessuno si rende conto della differenza. È vero, siete tutti liberali democratici, c'è la democrazia scomparsa. Allora, attraverso la documentazione politica noi possiamo consentire anche a compagni non particolarmente preparati di intervenire e prendere atto della situazione. Perché io credo che il nostro compito sia quello di far capire ai compagni qual è la situazione reale. Cioè, bisogna far capire ai compagni che non c'è spazio di riforme. Se nel dopoguerra forse c'era la possibilità di riforme capitalistiche che facessero progredire l'Italia fuori del socialismo, oggi tu non hai nessuno spazio di progresso fuori del socialismo. E questo però bisogna che la gente lo veda attraverso fatti continui, no? Attraverso le chiacchiere sue o mie. O di Renato che ne può fare anche me. Allora io procurai questo, questo terzo momento, curato bene, di formiamo documentazione materiale che richiamiamo da internet, non è tanto misteriosa, no? In modo che i compagni sappiano quello che succede e che discutano di quello che succede. Ecco, io questo proporrei. un'ultima piccolissima cosa. Forse il compagno Andrea si arrabbiava un pochino, ma quando l'assemblea dei lavoratori ha l'obiettivo quello di far conoscere altri lavoratori le condizioni di un proprio lavoro, no? Io so in quel luogo di lavoro succedono queste cose, facciamo un bollettino in più di fondo a consapevolezza. E a me ricorda Trilussa quando parlava del prete che spiega la religione e dice, benissimo a sapere che sono misteri. Cioè, che cosa spiega il lavorato prete? Che lui è sfruttato come quell'altro, ma che non lo sapete? Che caspita la spiegazione è questa? Tu al lavoratore devi indicare una possibilità di lotta, di alternativa e un punto fondamentale, se siamo d'accordo, è quello di capire che il punto di vista del momento dei lavoratori è il marxismo, la prospettiva di liberazione del colidariato è il socialismo. questo bisogna capire, non è questione, capite, di gruppetto, no? Allora venite al gruppetto mio, al gruppetto di un altro, non è questo. È il fatto, vuoi la democrazia, la democrazia vuol dire il Soviet, vuol dire la revoca del mandato, vuol dire l'armamento del lavoratore, vuol dire che il parlamentare deve avere il salario operaio medio, voi figurate, non c'è più nessuno che lo dica questo. Vogliamo spiegare ai compagni che Lienin e Ibocelliti questo volevano, il parlamentare ha il salario del salario medio. È un fatto democratico. Sapete quante pensioni si pagherebbero a ridurre il salario ai parlamentari? Questo dicono per è utopismo. Ora no, e non è utopismo, in particolare se a questo aggiungi la condizione necessaria, cioè che l'operaio deve essere organizzato e armato, perché c'è da te che vorresti fare in bocca qui. Quindi, vabbè, io faccio la proposta appunto di un terzo momento che sia di discussione di materiali, di documenti presi dall'attualità. ma poi dov'è? C'è quella che per organizzare giù gli ospedali in Sicilia che gli davano 800 mila euro l'anno, dopo più 80 mila di spese. E' utopismo, non ti per te. Sì, ci sono una preparazione, ovviamente, su questa cosa, io vedo che sto propondo dei materiali, però, vista la discussione di stasera, secondo me sarebbe necessario a questo momento che i partecipanti a questo tavolo riflettessero su questa questione, e dopodiché ci vediamo un momento anche più organizzativo se vuoi, a meno che non ci sono questioni da discutere addirittura faccio la proposta partiamo dal momento della discussione di documenti su fatti che succedono dall'attualità e da questo facciamo risalire la necessità di capire a fondo una cosa non vale la pesca ma non ho quell'ispressivo sai, l'ispressivo forse potrebbe essere con degli studenti ammesso che esistano con degli studenti ma con della mente che deve calcolare i soldi ogni mese si, però il punto è che tu fatti una cosa che tu o Andrea più o meno hai leggermente di fare insomma uno per settimana appunto fai una selezione di materiali che ti viene si, questo è vero ti valga la pena di discutere però rischiamo di andare questo è vero questo è indubbiamente vero è un aspetto reale rischiamo di andare un po' a regalare dei regoli secondo me verrà nel senso al di là di questo doveroso momento di ripassione che fa anni che possono portare a proposte però qui era non tanto per far approvare questi seminari ma capire se lo vogliamo fare in questa maniera dopodiché il problema non è che si pone voglio dire scusate ci sono sei articoli sei articoli diffusi dal Roland così sul Catrina e Bush ora questi sono fatti di democrazia cioè qui c'è la documentazione precisa del fatto che con il queste sciagure naturali il potere degli Stati Uniti ha avuto un netto addeggiamento di classe facendo morire un sacco di giorni di gente ma non altra sono già raccolte queste cose dichiarazioni degli economisti brasiliani per esempio sul governo Lula che abbiamo bisogno di raccogliere già ce l'abbiamo cose di Chavez ce l'abbiamo già su Cuba ce l'abbiamo non lo so io ho l'impressione che sbaglierò ovviamente no che possa essere più utile cominciare da qualche cosa di facilmente comunicabile e da questo poi risalire oppure no se sbaglio correggetemi è sortito una cosa su questo io capisco il senso per il quale dici questo però secondo me c'è la c'è la meraviglia che non è tanto adesso il problema se questo posso o meno ritardare lo sviluppo di questa iniziativa e che penso però come dicevi tu all'inizio nel primo intervento di questa iniziativa visto che se questi seminari si pongono chiaramente un obiettivo hai tracciato un argomento un magro argomento all'interno del quale poi è scadionato se vogliamo quantomeno squisitamente teorico nel senso che poi va riadattato proprio perché sia tu e sia Andrea emergeva l'aspetto giustamente per quanto riguarda il lavoro dei comunizi nell'ultimo ventennio probabilmente dicono una realtà che sia quantomeno orientativa probabilmente l'aspetto più teorico è stato lasciato quantomeno in disparte mentre invece c'è la dialettica tra le due cose però se partiamo da questo a mio avviso c'è senso fare il contrario ossia appunto partire da così come erano stati individuali seminari individuandoli come dire con un momento appunto più teorico e la discussione che tu fai che tu hai detto come esempio hai detto su un materiale di cadmina che è io ho anche qualcosa scaricato ho letto farla successivamente perché quindi ti dà la possibilità di riportare nel pratico se vuoi quello che è discorso magari chiedere gli strumenti prima esatto perché tutto sommare è già materiale adesso hai fatto questo esempio che comunque è vero che manca il dibattito è materiale che tra i compagni che non c'è